No, no, com'è? Ogni tanto te lo faccio io il video a te. Com'è Tiago Motto e quello del triplete? Ti voglio rammentare che il tuo presidente con la Juventus ha vinto sette scudetti, quattro coppe itali e tre super coppe italiane. Il tuo presidente, oltre a quelli che tu hai preso, Conde, ricordati che il 5 maggio Conde cosa diceva? Ed ha portato a vincere uno scudetto, a Samoa, a Vierai, a Braivoc. Ricordati che tu con i nostri hai vinto qualche trofeo farlocco, quindi prima di pensare a Tiago Motto che è uno del triplete, ti voglio rammentare che il tuo presidente ha vinto quattordici trofei con la Juventus. Ciao Stella!